In questa assemblea è di particolare rilevanza il fatto che saranno presenti anche le istituzioni. Noi da diverso tempo stiamo lavorando per fare in modo che vi siano delle coprogettazioni in maniera tale che vi sia spazio per una rigenerazione urbana e sociale della città di Gela che in questo momento sta attraversando una crisi profonda. E quindi stiamo mettendo in essere una serie di progetti che ovviamente richiedono il loro tempo ma in cui cerchiamo di muoverci assieme associazioni, ente comune, anche la direzione museale in modo tale da sviluppare qualcosa che possa essere utile non solo per fare nascere delle cose nuove e valorizzarle ma anche per cercare di dare per quello che è possibile anche delle risposte occupazionali. L'incontro è un tema importante, dal Palio dell'Alemanna al Parco delle Fiabbe. Perché? Il Palio dell'Alemanna è stato fatto quest'anno per la prima volta da una nostra associazione Geloi Tiskelion con la direzione di Giuseppe Laspina e ha avuto un ottimo successo. È nostra intenzione praticamente ripetere l'esperienza. Già c'è stata qualche riunione preparatoria insieme al Comune e alla Commissione Comunale di Cultura presente anche l'assessore Salinitro. In questa sede noi presenteremo, perché sappiamo che dovrebbero venire rappresentanti della Giunta Comunale, presenteremo uno schema di Palio. La cosa importante in questo, al di là dell'organizzazione, è quella di andare a formare un comitato, che sia un comitato come nelle altre città permanente, in modo tale che al di là poi di quelle che sono le politiche, che possono cambiare ovviamente, ma il comitato rimane. E quindi questo deve essere la base per fare in modo che ogni anno ci sia un Palio che abbia le caratteristiche. Ricordiamo dunque l'appuntamento di venerdì prossimo. L'appuntamento sarà venerdì presso la casa del volontariato in Via Ossidiana, accanto ai vigili urbani, alla sede dei vigili urbani, alle ore 18. Sono invitati praticamente tutti, perché è un'assemblea aperta, non solo l'associazione. È un cantiere aperto. È un cantiere aperto di rigenerazione urbana e sociale.